allora partenza da bellano giusto bellano giusto bellano per il sentiero del viandante un giro nuovo inedito vedremo come sarà stavano asciutto esatto la salita si fa impegnativa come si può vedere una carrareccia ciottolata sarà intorno al 25 per cento così a occhio e croce forse anche di più ma noi non temiamo alla salita single trek sentiero del viandante giusto da fare ad alta velocità arrivo sull'asfalto grande furca bello wow guarda qua guarda che vista ma che roba è spaziale fa una foto dai ripartiamo lungo il tracciato del viandante costeggiando il lago apri il danze vai wow buio buio oh ecco Non manco l'ho visto. Tan, mi imparavano. Riprendiamo il sentiero dopo un'ultima estenuante salita, con un caldo tropicale, un'umidità amazzonica. Vai, vai! Libero! Ha fatto la discesa per le bici, oh! Così, tanto siamo arrivati. Ah, io adesso qui lancio il drone. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Grazie a tutti.